Ho un mazzo di carte? Va bene? Dimmi stop quando vuoi. Stop! Guarda la carta, facciamo vedere in camera e la lasciamo qui. Questa è la previsione. Già sapevo che avresti scelto quella carta, infatti l'ho inserita qui in doppione. Eccola qua. Non è questa? Sei sicuro? La facciamo così. Te lo rifaccio, prima di farlo, questa qui, gli do fuoco perché quando sbaglia il mago che elimini gli errori. Quindi diamo fuoco a questa carta. Così per quello sia la carta della tua. 5 di picche, 5 di picche, la magia, la magia, quindi 5 di picche, la carta che tu hai scelto. Fantastico! Ciao! Ciao!